l'anno 2023 sta finalizzando e noi sta preparando per una inizio di un anno nuovo, l'anno 2024. E' fuente di carattere resiliente di Aruba, da bim di nostri promedio habitantina, qua crea un fundesci fuerti. Nel esfuerzo pa' construire l'economia di nostri paiz, sta nostra inspirazione, pa' seguire una nazione valente e determinata, pa' junto, luce pa' progresso di nostri paiz. E' pionero di nostri destinazione a creare un legato di norma e valore, da definire nostri arubiani. Per il ritmo di nostri musica, tenere saludo cordiale e arubiani sempre vivono orgogliosi di nostri cultura. Aruba è un diamante del Caribe, da definire la cordialità e l'amabilità sincero che nostri brindano ai nostri visitanti. E' questa qui è la nostra gerencia e la nostra esempio, pa' seguire construire la camina di amore e integrità, pa' le nostri generazioni per realizzare i nostri sogni. In questa settimana, l'anno riuscita la storia di storia di forza e resilienza di nostri paiz. Recibite il nome del Governo di Aruba, e mi ho deseo un buon Pasco e un prospero anno nuovo, e una con un'opportunità e felicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.